Spostandomi in treno ho più il senso delle distanze, di quante complicate soprattutto la nostra nazione tipo da Genova a Parma. Per arrivarci in treno ve lo raccomando perché veramente devi fare il giro del loca. Sono stato anche in posti sperduti del Lazio, quelle province strane tra Frosinone e Roma. Devo dire che sono le cose più belle perché alla fine chi viene fa un po' di fatica ma poi hai anche un'accoglienza più calorosa. Credo che oggi i giovani abbiano meno il gusto dell'avventura proprio perché sono cresciuti con il controllo della situazione. Se devono andare in un locale vedono le recensioni, se si perdono hanno Google Maps, se gli piace una persona si mandano i cuori su Instagram e vedono se ricambia. Si può vivere in modo consapevole con la tecnologia senza dimenticare il cuore.